Capitano Marinaro, oggi ha segnato il primo gol di questa vittoria della Mani 3-1 sul Gasperina. Come è stata questa partita oggi giocata? Sicuramente è stata una bellissima partita condotta da noi, ma anche abbiamo trovato un buon Gasperino che veniva da una vittoria, un punto sopra di noi, però abbiamo reagito al meglio portando a casa la vittoria. Abbiamo reagito subito portando la squadra in vantaggio nel primo tempo e come sono entrati abbiamo fatto 2-0. E giustamente poi abbiamo trovato la vittoria sul 3-1. Giustamente faccio un complimento anche a Gasperina, però questa vittoria a noi serviva per arrivare in meglio la prossima partita contro Luigi Migliano. Diciamo che Gasperina anche oggi è rimaneggiato senza i suoi uomini più importanti, sarà giocata alla pari diciamo. Abbiamo trovato un buon Gasperina perché diciamo che per 20 minuti la partita è stata sul 0-0. Sì, hai detto giusto, in Gasperina mancavano uomini importanti come Vagliardi, Agresta eccetera eccetera e giustamente magari con questi tasselli in più ci poteva mettere ancora in difficoltà, ci poteva mettere in difficoltà perché sono uomini importanti e tasselli importanti per la squadra.